Buon viaggio e bentrovati con Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini, attenzione, è stato chiuso un tratto per un veicolo in fiamme, siamo in A1 nel tratto tra Firenze Sud e Incisa-Reggello, la direzione è quella per Roma. Passiamo alla 11, la Firenze-Pisa, un veicolo in avaria tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze, sulla strada di grande comunicazione ci sono code sulla FIPILI, tra lo svincolo la strassigna e l'allacciamento con la 1 Firenze-Scandici in direzione di Firenze. Tornando in A1, dalle 22 di domani giovedì alle 6 di venerdì sarà chiusa la stazione di Calenzano in entrata verso Bologna, lavori di ampliamento per la terza corsia. C'è uno sciopero previsto all'aeroporto di Firenze per venerdì, proclamato da alcune sigle sindacali, sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Muoversi in Toscana